L'anno scorso ho fatto 32 partite, mi sento un giocatore importante per la squadra. Ho fatto massimo due anni nelle squadre, già l'anno scorso che ho iniziato il terzo, era una novità diciamo, ora inizia il quarto, non me l'aspettavo ma ci speravo. Già lo scorso anno è stato un anno abbastanza positivo, insomma, dove è arrivato anche qualche assist, visto che nei precedenti due non era successo. Niente, poi è la cosa di migliorare sempre, quindi fare sempre di più. Gila appena rivolto mi impressionò per come proteggeva la palla, aveva un modo strano, anche se magari tecnicamente non era, non è fortissimo, però faceva anche dei numeri ogni tanto così. Rolly mi sa di una punta che si sacrifica, che corre, che si butta negli spazi, insomma, un po' più, forse un po' più dinamico. Ogni stagione non è la stessa, non è la stessa, insomma. L'anno scorso siamo partiti un po' a rilento, le prime dodici partite. Io sono abituato a fare molto di più in fase offensiva, quindi mi aspetto quello.